Io vi parlerò di un caso in Toscana, più nello specifico all'isola d'Elba, nella località Il Piano. Se siete andati all'isola d'Elba attraccando Riomarina è molto probabile, direi sicuro che siete passati per questa strada in quanto è praticamente l'unica strada che collega il porto di Riomarina dal resto dell'isola. Una regione con una configurazione un po' particolare in quanto è fondamentalmente una conca circondata dai rilievi di modesta entità che si chiudono proprio all'imbocco della città di Riomarina. Che questa zona fosse una zona interessata a fenomeni carsici lo sapevano già nell'età del rame, a cui infatti risalgono dei resti di un sito sepolcrale. Evidentemente sto pensando all'intervento di stamani della dottoressa Nisio che ci faceva vedere appunto questa corrispondenza tra archeologia e carsismo se vogliamo. Però purtroppo accade che ci scordiamo delle caratteristiche del nostro territorio e ce ne ricordiamo solo improvvisamente quando questi ci vengono sbattuti in faccia ed è il caso proprio dei sinkhole di Riomarina. Infatti se ne sono verificati ben nove dal 2008, tutti concentrati lungo appunto la strada provinciale o nelle immediate vicinanze come in questi casi. è anche possibile che ve ne siano altri nelle aree limitrofe però o a causa dei lavori agricoli oppure magari a causa del fatto che nessuno è andato a controllare, diciamo che questi non sono ancora stati individuati. Dal punto di vista geologico la situazione è delle più classiche per quanto riguarda la formazione di questi fenomeni, ovvero sia abbiamo, si vede meglio anche dalla sezione, abbiamo la formazione del calcare cavernoso, quindi dei calcari intensamente carsificati coperti da sedimenti compattabili e abbiamo sia est che ovest il cavernoso che confina con due formazioni poco permeabili che sono il verrucano e la formazione di cavo, il che fa sì che praticamente sia un unico grosso acquifero in cui l'acqua scorre da nord verso sud e che è anche una zona interessante quindi dal punto di vista dello sfruttamento idrico, tanto più che vista la morfologia che dicevo prima è praticamente un collo di bottiglie che convoglia tutte le acque. Sono stati fatti anche dei sondaggi che hanno confermato questo quadro derivante dalla carta geologica e che hanno mostrato come vi sia uno spessore medio di 15-20 metri di depositi e in questo caso il sondaggio si è fermato non appena è stato raggiunto il cavernoso. Questi depositi possono essere molto spesso riempimenti che sono andati a riempire anche le cavità carsiche. Questo è uno schema concettuale del tipo di fenomeno che noi immaginiamo si verifichi in questa zona, ovvero sia abbiamo delle cavità preesistenti, i sinkole si formano per suffusione oppure per crollo della copertura sedimentare, questi due fenomeni possono anche verificarsi insieme, non escludiamo comunque anche altri processi come ad esempio crolli delle volte di roccia. La provincia di Livorno ci ha chiesto a questo punto di effettuare una razonazione perché sì è un problema interessante dal punto di vista scientifico ma forse più importante è anche il problema di protezione civile perché lungo la provinciale ci passano oltre a tutti i turisti ci passano scuola, bus, ci passano tutte le macchine che ogni giorno vanno a fare la spesa alla coppa che è proprio lungo la strada. Per cui la classificazione che abbiamo fatto ha seguito un criterio geologico e geomorfologico principalmente, soprattutto valutando anche dove si erano già verificati i sinkole. Per cui abbiamo suddiviso in tre aree, il rischio massimo è quella rossa che è caratterizzata da presenze di calcare cavernoso subaffiorante al di sotto dei sedimenti che abbiamo ripetuto essere la massima criticità, la zona arancione dove abbiamo il cavernoso affiorante che in qualche maniera quindi rappresenta un rischio minore perché salvo il caso di crolli in roccia eventuali sinkole sono comunque visibili e poi la zona gialla che è quella dove ci si aspettano magari i fenomeni di subsidenza ma sono più improbabili i fenomeni di sinkole veri e propri. In questo caso è un esempio di possibili viabilità alternative perché appunto come si diceva la strada è l'unica praticamente per cui anche pensare a dei passaggi alternativi per passare in zone non a rischio è estremamente difficoltoso. A questo punto viene spontaneo anche chiedersi quale possano essere le cause anche perché questo ovviamente ci dà degli strumenti poi per fronteggiare il fenomeno. Siamo partiti pensando di verificare l'influenza delle piogge perché abbiamo fatto un po' di prove con precipitazioni accumulate a vari intervalli, con precipitazioni giornaliere però come vedete io ho messo solo in questo caso le accumulate a sette giorni ma non ci sono risultati migliori nemmeno con le altre tipologie di dati, cioè non c'è una corrispondenza in nessuno dei due sensi, dove abbiamo dei fenomeni di sinkhole che sono delle nuove rosse e non abbiamo particolari picchi di pioggia e viceversa, dove abbiamo picchi di pioggia non riscontriamo fenomeni di sinkhole. Quindi abbiamo pensato a un'altra possibile causa legata agli emulgimenti nella zona che come dicevo sono piuttosto intensi anche perché si può immaginare come in tutte le isole e l'acqua sia una risorsa molto importante. In questa zona effettivamente sono presenti pozzi di varia natura, in particolare vicino a dove si sono verificati i sinkhole e cioè in quest'area sono presenti dei pozzi per uso potabile di proprietà del gestore idrico locale. Il gestore ci ha anche fornito questi dati che sono dati di portato annua di emulgimento che si vede dal 2005 sono all'incirca costanti 600.000 metri cubi l'anno, quindi sono quantità ingenti. A questo punto abbiamo anche verificato se da satellite fosse visibile un qualche tipo di deformazione. Non mi sto ad allungare sulla tecnica perché l'ha già spiegata il dottor Salvi Stamani con un set di dati tra l'altro molto meglio di questo che è di Envisat, un satellite che ha fatto questa acquisizione in orbita ascendente, qui vediamo i quadratini viola che sono i pozzi che vi ho appena fatto vedere. I pallini verdi sono dei riflettori presenti sul terreno tipo tetti o guardrail e cose così, quelli verdi sono stabili, quelli gialli indicano un abbassamento, quelli azzurri un imbalzamento. Qui si vedono gli abbassamenti presso uno stabilimento industriale, questa è una lavanderia industriale per cui è legittimo aspettarsi che emungano soprattutto d'estate. Altri punti, in particolare questi due più vicini ai sinkhole che si sono verificati, di cui adesso vi mostro anche le serie storiche che indicano un trend abbastanza costante, tranne nel secondo caso in cui si può vedere una decelerazione dal 2007 circa, comunque sia delle velocità ane non trascurabili intorno ai 5-6 mm l'anno. A questo punto abbiamo optato sempre su richiesta della provincia di Livorno per un monitoraggio di tipo interferometrico da terra che è fondamentalmente una sperimentazione su questo campo perché noi lo strumento lo utilizziamo molto spesso per il monitoraggio delle frane, mai per il monitoraggio di sinkhole, credo si sia stato solo un caso finora a Camaiore. Il motivo è presto detto, principalmente è legato alla linea di vista dello strumento in quanto la tecnica interferometrica per sua natura effettua misurazioni molto precise però solo lungo la linea di vista, per cui come mostrerò più avanti con una slide che lo spiega bene, se abbiamo uno spostamento verticale noi in ralea lo dovremmo mettere praticamente in cima a una torre a puntare verso il basso, per cui già questa è una difficoltà un'altra difficoltà è legata alla risoluzione, una possibile difficoltà, cioè noi siamo abituati a monitorare frane che hanno fronti di decine di metri, qui si tratta di individuare oggetti che hanno un diametro variabile, ma insomma finora non ha superato la decina di metri. Inoltre c'è da considerare il passaggio delle automobili, la vegetazione, tutti i fattori che chiaramente disturbano. Allora per iniziare a avviare al problema della linea di vista abbiamo posizionato lo strumento su un colle vicino così da avere innanzitutto un'ampia visuale e poi da essere più verticali possibili, di allinearci quindi al movimento verticale atteso. Questa è la linea di vista dello strumento con alcuni dei fenomeni individuati. Questo invece è un tipo di prodotto che genera questo strumento, è un'immagine in potenza, ovvero sia praticamente con una scala di colori noi rappresentiamo quanto gli oggetti presenti all'interno dello scenario riflettono alle microonde. Praticamente vediamo qui che gli oggetti più gialli sono quelli che riflettono maggiormente, qui si individua la strada che è questo zigzag, in particolare i guardrail si riflettono molto bene, questa area qui è quella del villaggio Togliatti perché oltre alla strada provinciale c'è un altro elemento di rischio che sono queste abitazioni, la co-op e lo stabilimento industriale che dicevo prima. L'intero quadrato è costruito da 13.000 pixel di una dimensione media di un metro quadro per cui in qualche maniera riusciamo a contenere il problema che dicevo prima delle dimensioni dei sync call, l'area totale di 64 ettari, la parte adesso vediamo solo quella molto riflettente, quella che vediamo meglio sono 13 ettari che comprendono interamente l'area considerata a rischio. Questo esemplifica meglio il discorso che facevo prima riguardante la linea di vista, cioè noi ci aspettiamo uno spostamento verticale, però se la linea di vista è inclinata noi vediamo solo una componente. Nel nostro caso l'angolo di incidenza è 80 gradi, per cui una semplice funzione trigonometrica ci dice che noi vediamo circa un quinto dello spostamento reale che si verifica. Il meccanismo non l'ho spiegato perché mi rifacevo alla presentazione del dottor salve, comunque in due parole questo strumento come per il radar da satelliti invia delle microonde in un tempo T1, le invia anche in un tempo T2, misura la fase nel tempo T1 e nel tempo D2 se c'è stato uno sfasamento. Siamo in grado di capire quanto è stato lo spostamento dello scenario che ha causato lo sfasamento delle due onde. Dunque noi avendo avuto queste perplessità sul funzionamento di una tecnologia così sperimentale per questo campo abbiamo preferito fugare ogni dubbio e anziché aspettare che si verificasse un sinkhole ce lo siamo fatto in casa. Per cui abbiamo costruito una piattaforma di un diametro realistico per i fenomeni che si verificano. Abbiamo munita di piedini come quelli delle impalcature in maniera tale da alzarla e abbassarla di un valore di spostamento noto e poi verificare che cosa riuscivamo a vedere e se riuscivamo a vedere qualcosa. Per cui abbiamo fatto questi quattro passi di innalzamento e abbassamento sapendo che ci saremmo dovuti aspettare un quinto dello spostamento. Abbiamo anche provato varie superfici, asfalto, alluminio e terra per vedere se c'erano anche differenze apprezzabili tra punti sulla strada, punti sul campo eccetera. Questo è il risultato che ci ha incoraggiati perché vediamo che questo è lo spostamento accumulato nel tempo. Vediamo che queste due barre rosse segnano l'inizio e la fine dell'esperimento di sollevamento della piattaforma. In questo caso abbiamo effettuato l'abbassamento con la piattaforma di alluminio. Mentre noi l'abbassavamo di un valore di notte, lo strumento effettivamente registrava l'abbassamento corrispondente. Questa zona piatta corrisponde alla pausa pranzo, questa corrisponde all'inalzamento effettuato quando abbiamo coperto la piattaforma con l'asfalto. Qui abbiamo armeggiato intorno alla piattaforma, quindi c'è un po' di caos. Questo altro valore corrisponde all'inalzamento con la piattaforma coperta a terra, poi abbiamo smantellato tutto e è rimasto il terreno così come era perché poi partiva il traghetto. Questo è uno zoom in particolare delle vari spostamenti, quindi l'abbassamento con l'alzamento con asfalto e terreno. Chiaramente quando noi si abbassava lo strumento registrava un allontanamento perché essendo posto su una posizione sopraelevata era come se il terreno si allontanasse per lui. Questo risultato ci aveva incoraggiato e ci siamo scoraggiati subito quando poi abbiamo visto che il 9 ottobre si era verificato un piccolo sync call e noi non avevamo visto assolutamente niente. Praticamente questa a destra è un interferogramma, ovvero sia una mappa di spostamento in cui ogni pixel corrisponde appunto a una scela di un metro per un metro circa, se è rosso indica uno spostamento assente, se è giallo indica un allontanamento, quindi un abbassamento viola un avvicinamento. Queste macchie viola in questo caso però sono legate a disturbi atmosferici per cui possiamo dire che questo interferogramma mostra una scena sostanzialmente stabile. Il fatto da considerare è che questo sprofondamento era veramente ai limiti della risoluzione spaziale e inoltre era proprio vicino a un muro di recinzione che ostruiva la visuale. Maggior fortuna l'abbiamo avuta il 25 novembre perché abbiamo registrato un allontanamento, cioè un abbassamento di 3,5 mm proprio sulla strada provinciale. Il dottor Gerarducci qui presente ha effettuato un sopraluogo immediatamente di serie a maniera tale che le ombre potessero disegnare in qualche maniera l'abbassamento che ha valutato essere pari a 2,5 cm che corrisponde proprio a 5 volte lo spostamento circa, lo spostamento che avevamo visto con il radar, per cui effettivamente c'è questa coincidenza. Il 27 gennaio abbiamo verificato un altro evento, questa volta più intenso, queste due linee sono i guardrails della strada, la serie storica mostra una repentina accelerazione proprio in corrispondenza di questi punti. Proprio qui sulla cuve della strada provinciale abbiamo immediatamente emesso una nota di monitoraggio alla provincia di Livorno che ha quindi ordinato che si facessero dei sondaggi, quindi sono stati fini effettuati dei fori, questi fori però non trovavano niente di soldo, allora è stato deciso di fare una finestra, effettivamente si è visto che al di sotto della strada non c'era più niente, per cui la strada è stata immediatamente chiusa e quindi come dicevo prima siamo adesso nella fase in cui bisogna risolvere il problema della viabilità alternativa, in questo caso probabilmente l'asfalto ha fatto da membrana elastica, cioè non è crollato subito con il vuoto sotto, ci ha permesso di avere qualche giorno in anticipo perché è iniziato a deformarsi e quindi noi siamo stati in grado di apprezzare lo spostamento. Per concludere questo deriva dal bollettino di monitoraggio odierno, ogni giorno facciamo un bollettino di monitoraggio in cui mostriamo la situazione, qui si vede l'inizio dell'emergenza quando abbiamo mandato la nota, qui poi a voi decidere se è una coincidenza o meno, corrisponde un'interruzione temporanea dei pompaggi effettuati dal gestore idrico e niente, per cui stiamo continuando attualmente il monitoraggio. Quindi in conclusione una rapidissima analisi del rischio così in maniera qualitativa, la pericolosità dell'aria è sicuramente alta perché basti vedere la frequenza degli eventi e il fatto che comunque ci sono fattori predisponenti evidenti. Gli eventi al rischio sono importanti perché oltre ad essere una strada molto trafficata ci sono anche delle abitazioni, la vulnerabilità è alta, basti pensare che la strada è stata chiusa, quindi praticamente è inagibile. Attualmente le soluzioni quali sono? Sono un monitoraggio, per il momento, per la fase di emergenza, che comunque ci ha permesso già di prevedere un evento e quindi speriamo anche di aver evitato il peggio. Infine una piccola nota su cui non mi posso soffermare, comunque facendomi anche altri interventi della mattinata, ritiniamo fondamentale che questi concetti vengano trasmessi anche alla popolazione perché alla fine sono loro che rappresentano il miglior sistema di monitoraggio, se ogni giorno riescono a conoscere e individuare fratture o criticità che possono essere presenti sul loro territorio e segnalarle. Vi ringrazio. Grazie per questo intervento che ha rappresentato una situazione che poi si verifica in tante parti del nostro territorio, cioè di situazioni che poi comportano disagio alla popolazione perché questa è un'importante via di comunicazione per il territorio dell'Elba, specialmente d'estate la situazione è drammatica. In alcune situazioni faccio presente che si è deciso, per esempio visto che avete usato questo sistema di monitoraggio da terra che è più adatto per le frame, in queste situazioni per esempio so dei casi che con un semaforo si bloccava il traffico se c'erano massi, crolli di questo tipo. Capisco che il fenomeno è ancora da studiare, però ecco volevo sapere se in passato, ho visto la strada che è stata ricaricata più volte, se il fenomeno non sia avvenuto più volte nel passato, se questo voi ne siete a conoscenza tramite l'amministrazione provinciale. Che il fenomeno sia avvenuto in passato sì è sicuro, in un caso ma anche nel 2013 è stata aperta completamente la strada, cioè praticamente un camion ha infilato una ruota in una buca che poco tempo più tardi ha preso entrambe le carreggiate, allora sono stati fatti dei lavori di ripristano, è stato fatto prendendo un punto interrato per in qualche maniera scaricare le tensioni, sono stati fatti tanti lavori, il problema è che la zona è molto suscettibile per cui si va a mettere buchi su un groviera, non è facile trovare una soluzione definitiva e per questo infatti la provincia sta pensando a strade definitivamente alternative che non sono facili, perché lo spazio è quello che è e non ci sono tanti passaggi alternativi in realtà. D'altra parte all'inizio non si poteva prevedere questi fenomeni anche se sull'isola d'Elba ci sono state altre segnalazioni credo. Sì sì, no ma infatti come dicevo poi il rischio è sempre che ci dimentichiamo poi in realtà di quali sono le criticità del territorio, per cui arriviamo a costruire senza una consapevolezza che magari acquisiamo a nostre spese. C'è una domanda credo, sì prego. Buonasera. Parli vicino al microfono, è già aperto. Sono Michele Di Filippo e sono d'accordo con lui con l'educazione alla popolazione ma anche della capacità del geologo di parlare con le persone. Da parte sapere che magari da qualche mese a sta parte una finestra o una porta non si chiude o si chiude male, quello è un indizio. Ma più che altro su questo lavoro io da una parte sui fattori geologici predisponenti. Io penso che il calcare cavernoso lì sia un caso, appartiene alla successione, sta lì. Ma più che altro quella zona ha fatto da trappola per i sedimenti e c'è poi un'accelerazione del flusso idraulico dell'acqua che passa in quella valle strettissima. Quindi c'è un'erosione in subalveo che può aver proprio causato i piccoli crolli lì proprio nella zona di confluenza. e quindi io da una parte avrei visto con piacere magari una geofisica come topografia elettrica o sismiche o al limite la microgrimmetria per prevenire, non aspettare gli abbassamenti del suolo ma prevenirli proprio o vedere intanto quali sono le zone più stabili per posizionare la provinciale. Allora, sì, grazie. In realtà dell'elettrica è stata effettuata, non l'avevo mostrata, ma insomma per motivi di tempo. Penso che il ruolo del gardiente idraulico sia molto importante, soprattutto vista la presenza, non credo casuale, di un campo Pozzi lì vicino e come diceva però un relatore prima di me è necessario trovare anche uno sfogo per questi sedimenti, cioè per cui in questo caso lo sfogo penso sia rappresentato proprio da queste cavità. Il dottor Gerarducci della provincia di Livoro mi ha raccontato più volte di riempimenti effettuati con massi di notevole dimensioni che a distanza di mesi sono scomparsi perché appunto trasportati a fiumi sotterranei, per cui diciamo l'elemento carsico è fondamentale. Insomma, poi sicuramente è vero che esiste l'importanza dell'erosione dell'acqua sotterranea. Ma non è detto che esista il fiume sotterraneo all'interno del Cavernoso. Noi abbiamo quella valle che dovrebbe essere profondamente incisa, pensiamo a livello del mare Vormiano, quindi l'erosione si esplica in quei sedimenti che sono stati intrappolati in quella strettoia. Poi ecco, non aspettare il movimento, d'altronde si vede bene lì il passaggio tra il Cavernoso e i terreni che costituiscono i sedimenti del subalvio con l'acqua più conduttiva. Quindi non aspettare l'abbassamento del suolo ma prevenirlo prima. Secondo noi il motivo, diciamo il modo principale per prevenirlo è limitare, non possiamo cambiare i fattori predisponenti e quantomeno limitare quelli innescanti che secondo noi sono principalmente i pompaggi in questo caso. Ora questo schema vuole un po' rappresentare quello che intendo dire quando noi abbiamo una cavità preesistente e un pompaggio genera un ingrediente idraulico molto forte, è naturale che le frazioni più fini vengono risucchiate praticamente all'interno delle cavità. Poi si può discutere delle... Sì, sono d'accordo con lei, però valutiamo in particolare la percentuale di acqua pompata e la percentuale di acqua che piove in quel bacino, un momento di pioggia intensa, la percentuale. Scusami ma siccome stiamo sforando il tempo, allora sarebbe il caso che forse vi vedete all'altro e vi spiegate. Non so se sono così brusco ma abbiamo i tempi distretti. Grazie. Grazie.